Altro morto sul lavoro, il sesto dall'inizio dell'anno in Sardegna. Ce ne parla Maurizio Ciotola. Ieri in Sardegna l'ennesima notizia di morte sul lavoro che va ad aggiungersi alle 369 a livello nazionale e le altre 5 venute in Sardegna dall'inizio dell'anno. Simone Furia Calledda, 42 anni di iglesia, sposato e deceduto ieri per un incidente sul cantiere della cooperativa Escossa Sperate che si occupa di selezione e recupero dei rifiuti nella zona industriale di Macchiareddo a Cagliari. Gli inquirenti hanno compiuto i rilievi e sono in corso le indagini per capire quali siano le cause che hanno portato la pala di un escavatore condotto da un collega di Simone a colpirlo generando fratture e lesioni mortali. Si indaga ovviamente anche sul rispetto della sicurezza e delle azioni preventive adottate. Siamo di fronte a una strage continua, inaccettabile in qualsiasi paese civile, democratico e di diritto. Ancora di più, nel nostro ove le norme a tutela dei lavoratori costituiscono un fiore all'occhiello offuscato dalla discrepanza tra quanto normato e i dati effettivi. Non vi è casualità o fatalità, come molti troppi affermano. Così come non vi è un'adeguata cultura della sicurezza a causa delle reali inadempienze e cui troppo spesso solo le certificazioni cartacee attestano. Verità e ipocrisie qui nel lavoro sono consapevoli in tanti, così come nelle istituzioni preposte e in quelle politiche sindacali. Nessun lavoro può essere affidato al ribasso se non si disattendono i punti essenziali delle componenti che determinano il costo finale. Ed è evidente che nel nostro paese tale disattenzione ed evidenti omissioni riguardano principalmente la sicurezza in cui operano i lavoratori, in particolare quelli meno tutelati contrattualmente.